Una diminuzione minima di alcune voci, niente di più. Non cambia il quadro ambientale a Civitavecchia che, stando ai dati estrapolati dalle 14 centraline collocate nel territorio urbano, continua ad essere assolutamente tranquillo. E la cosa in qualche modo risulta paradossale a fronte del tanto allarme suscitato in parte dell'opinione pubblica dalle più che visibili emissioni di fumo dalla ciminiera della centrale di Torre Valdaliga Nord. Un allarme che però risulta infondato, alla luce dei dati pubblicati sul nuovo report diffuso da Arpalazio, sulla base dei dati forniti quotidianamente dalle centraline presenti in città e relativo alla settimana compresa tra il 28 febbraio e il 6 marzo. Anche nel periodo considerato, infatti, tutti i valori certificati sono rimasti di gran lunga al di sotto dei limiti di legge e, ancora molto al di sotto rispetto a quelli riscontrati in altre realtà della Regione, ad esempio nella Capitale. Nello specifico, proprio per quanto concerne gli ossidi di azoto, nella centralina di Via Morandi si è registrata una media di 31 microgrammi al metro cubo contro i 29 della settimana precedente. In Via Roma si è passati da 42 a 47 microgrammi, a Villa Albani da 28 a 35 e al Porto da 27 a 23 microgrammi. Valori notevolmente al di sotto del livello di allarme che la legge è fissa a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del particolato, ovvero delle polveri, è stata di 15 microgrammi al metro cubo al Porto, 4 in più della settimana precedente, di 21 microgrammi a Villa Albani, 3 sopra quella rilevata dal 21 al 27 febbraio. Nel caso del PM10 o particolato la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. In crescita da 0,5 a 0,7 microgrammi il valore del benzene, misurato nella sola centralina di Fiumaretta, e in lieve salita anche il monossido di carbonio, misurato a 0,4 microgrammi nel complesso della città, a 0,7 in Via Roma e a 0,5 a Fiumaretta. Valori medi degli agenti inquinanti in calo anche nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 7 microgrammi, seguono Aurelia con 10, Faro e Fiumaretta con 12, Campo dell'Oro con 13 e San Gordiano con 15. Per quanto concerne invece il PM10, si va dai 13 microgrammi misurati ad Aurelia, dai 14 di Sant'Agostino e 15 di Faro e Campo dell'Oro, per finire con i 17 di Fiumaretta e San Gordiano.